Non si arresta l'attenzione alla sicurezza da parte delle istituzioni nissene. Mercoledì si è tenuta una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto, con la partecipazione dei vertici delle forze dell'Ordine, della zona telecomunicazioni della Polizia di Stato e con i sindaci dei comuni della provincia, fra i quali Caltanissetta, Mazzarino, Riesi, Villalba e Vallelunga, nel corso della quale sono stati analizzati i progetti di videosorveglianza. In apertura il Prefetto ha richiamato l'importanza dell'iniziativa che mira a dare un impulso alla realizzazione di strategie congiunte tra i diversi livelli di governo per il contrasto dei fenomeni criminali e la promozione del rispetto del decoro urbano tramite l'installazione di impianti di videosorveglianza, quali strumenti privilegiati per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria. La riunione di ieri ha dato seguito alla stipula con i comuni di Villalba, Mazzarino e Vallelunga e Pratameno dei patti per la sicurezza urbana avvenuta martedì scorso. Sono nove i comuni della provincia di Caltanissetta che hanno presentato le istanze per l'ammissione ai finanziamenti che prevedono l'installazione nei rispettivi territori di un impianto di videosorveglianza o, in alcuni casi, che ampliano quelli già esistenti. Nel corso della riunione, inoltre, le progettualità sono state illustrate ai componenti del Comitato Provinciale per l'Ordine della Sicurezza Pubblica, esteso per la circostanza alla presenza del dirigente della zona telecomunicazioni della Polizia di Stato di Palermo, che ha formulato un parere tecnico sulle stesse. Al termine dell'incontro, il prefetto ha evidenziato come la presenza di un efficiente sistema di sorveglianza a presidio del controllo dei centri urbani, soprattutto di quelli che attualmente ne sono sprovvisti, contribuisca a realizzare un sensibile rafforzamento della generale azione a carattere preventivo e di repressione dei reati.